L'UNICSTAR, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. La settimana sarà molto movimentata con fasi piovose, brusco calo termico e clima autunnale. Martedì 17 ottobre intanto il tempo si manterrà buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno e solo a tratti poco nuvoloso. Il clima sarà decisamente più consono alla stagione dopo un periodo di caldo fuori norma. Temperature minime tra i 3 e i 9 gradi, massime comprese tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli-Venezia-Giulia. Anche qui bel tempo, asciutto e stabile, tanto sole su tutti i settori e cielo sereno o velato. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino-Alto Adige dove sarà piuttosto soleggiato con qualche annuvolamento innocuo nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 5 e 6 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.